Salve, oggi vi insegneremo come installare Too Many Items per il nostro caro Minecraft. Andate sul link che vi inserirò nel video. Io ce l'ho qui. Scaricatelo. Queste fottute pop-up. Apritelo. Eccolo qui. Andate qui e scrivete App Data con due percentuali all'inizio e alla fine. E andate su Minecraft Bin e trovate questo. Fate destro, apri con Mirar o 7-Zip, quello che avete. E avrete questa finestra qui. Ora ritornate su Too Many Items. Selezionate tutto con Shift. E spostatelo nella cartella. La date ok. Potete chiudere tutto. Proviamo Minecraft. Io ho il testo del pack quello nuovo. Versione 1.8. Questo è il mio mondo. Magia e le magie. Abbiamo Too Many Items. Una gran cosa per chi non ha voglia di craftarsi tutti gli oggetti. Il video è finito. Vi auguro buon divertimento.